Sono le 15 e 12 e questa era Superpower di Beyoncé. State ascoltando Picnic, un dialogo tra le generazioni, questo programma di RBA che inonda tutti i giorni dalle 15 alle 16. E oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Caterina Canavosio. Ciao Caterina. Ciao Giulia, grazie di invito. Ciao Caterina, scusami. Perfetto, allora tu sei una scrittrice ma sei anche la presidente del circolo ricreativo Airali, associazione di volontariato no profit che si trova nella frazione di Airali di San Secondo di Pinerolo. Lo specifico perché anche noi qua siamo ad Airali ma a Luzerna San Giovanni. Perfetto, hai voglia di raccontarci un po' di questo circolo ricreativo che nel passato era una piccola scuola di Borgata mentre oggi è stato trasformato in un circolo. A chi è venuta l'idea di trasformarlo, di dargli una nuova vita? Allora, il circolo ricreativo Airali, sì, come dici giustamente tu, si trova nella Borgata Airali di San Secondo. Era una vecchia scuoletta di Borgata fino al 1990, dopodiché un gruppo di abitanti di questa Borgata ha deciso, su invito dell'amministrazione comunale, a farne un qualcosa di diverso da una scuola buttandola, diciamo così, sulla parte più di volontariato, di associazione e quindi di fare comunità. Certo, bellissimo. Infatti volevo proprio chiederti che cosa vuol dire per il vostro circolo fare servizio per la comunità? Che attività organizzate e di cosa vi occupate nello specifico? Aprire le porte al circolo Airali vuol dire essere sociali, vuol dire trovare qualcosa da fare insieme ad altre persone, condividere a volte anche delle attività che possono trovare interesse su più persone. Trent'anni fa Luigi Oddoero insieme ad un altro gruppo di persone qui della zona Airali di San Secondo ha costituito questa associazione no profit proprio con l'intento di mettere a disposizione quello che lui sapeva o quello che altri soci potevano sapere per arricchire a livello culturale e sociale le persone che in qualche maniera si approcciavano a questa vecchia scuoletta di Borgata. E devo dire che ci sono riusciti. Noi, nuovo direttivo più giovane e più fresco, come ha voluto definirci il presidente uscente nel 2020, il signor Remo Morero, abbiamo impostato tutta una serie di attività nuove per il circolo Airali affiancate quindi a quello che era la tradizione. Abbiamo mantenuto quello che era storia per 30 anni e ci abbiamo messo un po' di freschezza, mettiamola così. Che bello, è molto interessante questa storia. Io ti volevo chiedere che attività proporrete per l'anno 2023-2024? Avete già dei corsi, delle iniziative perché so che fate moltissime cose, siete molto attivi sul territorio. Hai voglia di raccontarcene qualcuno e magari di dare ai nostri ascoltatori qualche informazione per potervi raggiungere, insomma, per frequentare i vostri corsi? Certo, allora parto col dire che si è appena conclusa la settimana della cultura dove abbiamo impostato due serate con degli spettacoli alternativi, una serata con un teatro che è il Piccolo Varietà, un teatro in Piemontese di Luigi Oddoero e poi abbiamo organizzato una serata di giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di società a favore di bambini, ragazzi, adolescenti, quindi adulti. La partecipazione è stata parecchia così come avviene per i vari corsi che proponiamo. Tra questi abbiamo sicuramente il corso di dizione, il corso di inglese da quest'anno per adulti, un safety English come abbiamo voluto definirlo noi, abbiamo dei corsi di pasticceria e di cucina dove noi vediamo tra i fornelli nascono anche, oltre a fare socialità, nascono proprio delle vere e proprie amicizie che vengono poi portate avanti, per cui ci sono persone che si sono iscritte tre anni fa a un corso di pasticceria e continuano a presentarsi ancora adesso. E poi abbiamo dei corsi di degustazione birra, dei corsi di degustazione vini e quelli olistici, quindi lo yoga e il pilates posturale che fa sempre bene, uniamo corpo e mente. Fate davvero tantissime cose e sembrano veramente molto interessanti questi laboratori, questi corsi, quindi invito chiunque abiti nella zona vicino a San Secondo ad andare a scoprire questo circolo ricreativo ai rali. Inoltre volevo chiederti Caterina, come funziona dal punto di vista per associarsi? Si paga una tessera di 10 euro e poi come funziona per i vari corsi? Sì, chiunque possa essere interessato a frequentare un corso o venirci a trovare, noi ci troviamo tutti i mercoledì sera anche solo per un caffè e due chiacchiere, deve tesserarsi. La tessera annuale costa 10 euro, dà ovviamente diritto a diventare socio e quindi a partecipare a tutte le varie attività, agli eventi e perché no diventare anche volontario. Ecco, questa è una componente fondamentale, un'associazione no profit vive di soci e di volontari, noi stiamo sempre alla ricerca di qualche persona che abbia del tempo libero e voglia aiutarci in questo intento. Molto interessante, grazie Caterina. Adesso vorrei ancora farti un'ultima domanda proprio sul premio ai rali 2023 che è questo premio sia di poesia sia di fotografia, il trentesimo anno che fate il premio della poesia mentre solo il secondo per la fotografia. Come è andata quest'anno? Siete soddisfatti? Cosa ci puoi raccontare? Assolutamente soddisfatti, ogni anno è un incremento, un incremento di artisti, di poeti e il fiore all'occhiello, il premio ai rali. Il premio ai rali 2023 è stata la trentesima edizione, sono pervenute opere poetiche sia in prosa che in versi, alcune anche in rima, da praticamente tutta Italia. Solamente tre regioni sono rimaste fuori ma cercheremo il prossimo anno di riaccapparrarcele in qualche maniera. Stessa cosa per quanto riguarda la fotografia, il più piccolo partecipante al premio ai rali aveva solo 12 anni, il più adulto 97 per cui... Molto intergenerazionale no? Questo programma parla proprio di generazioni quindi è perfetto anche questo premio insomma da raccontare. Sì, assolutamente sì e poi la poesia, l'arte, qualunque forma di arte ingloba in sé tantissime persone. Abbiamo avuto la possibilità di partecipare a questa cerimonia di premiazione al castello di Miradolo, la fondazione Costo ci ha aperto le porte e tutti gli invitati sono stati entusiasti di questa giornata condivisa con Luigi Oddoero che è stato il presentatore per il trentesimo anno. Lui l'ideatore e lui anche il presentatore. Bellissimo insomma, abbiamo visto tantissime iniziative che propone appunto il Circolo Ricreativo ai Rali. Adesso noi ci ascoltiamo una canzone e poi parliamo del libro che ha scritto Caterina, perché non è solo la Presidente del Circolo ma è anche una scrittrice. E questa è Raccontè di Exotago, noi siamo a Picnic, un dialogo fra le generazioni, questo programma di RBA in onda tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica dalle 20 alle 21. E siamo qui con Caterina Canavosio che è la Presidente del Circolo ai Rali di San Secondo di Pinerolo. Ci ha raccontato prima del Circolo, di tutte le iniziative che ci sono, sono veramente tantissime e molto interessanti. Quindi vi invito ad andare al Circolo ma anche di andare a guardare i loro social e il loro sito, che è molto aggiornato e molto ben fatto. Adesso parliamo però del suo libro, perché Caterina è anche una scrittrice. Infatti ha scritto questo libro che si intitola Caterina, un nome, due storie, uscito proprio nel 2023, quindi recentissimo, e pubblicato da LAR Editore. Dico giusto due parole, poi lascerò ovviamente parlare te Caterina, che sei insomma la scrittrice, quindi ci potrai raccontare tante cose interessanti su questo libro. Il libro inizia così, Cate è l'autrice del romanzo, mentre Rina è la sua nonna paterna che non ha mai conosciuto. Cosa ci puoi raccontare di questa storia Caterina? Di che cosa parla? Allora, la storia di Rina, appunto la nonna paterna che io non ho conosciuto, perché è mancata prematuramente a 48 anni. Lei, madre di dieci figli, era una donna, come si evince poi dal libro, molto forte, una grandissima lavoratrice, aggrappata alla fede e con un amore smisurato per la sua famiglia, per i suoi figli. Io sono Cate, visto che un libro si legge già dalla copertina, dal titolo si vede Cate, scritto piccolo, Rina, scritto grande, proprio perché voglio mettermi ai suoi piedi. So che porto il suo nome e quindi ho voluto in qualche maniera giocare sui diminutivi. Visto che tutti mi chiamano Cate, ma lei era chiamata da tutti Rina, li ho uniti e ho cercato in questo libro di capire se unendo i due diminutivi comparisse un nome solo e magari una personalità sola. Per cui sono andata dai dieci figli di questa nonna Rina, mi sono fatta raccontare qualcosa da loro, perché io la nonna non l'ho conosciuta, è mancata, mio papà aveva solo 17 anni. E da questi aneddoti è uscito un capitolo per ogni zio e in parallelo c'è un capitolo dedicato alla sottoscritta. Certo, e se posso chiederti, quali sono le scoperte più emozionanti che hai fatto parlando appunto con ognuno dei dieci figli di Rina, quindi dei tuoi zii? Perché tu, insomma, anche durante la pandemia sei andata proprio a parlare con ognuno di loro per chiedere che cosa si ricordassero della loro mamma, giusto? Esatto. Allora, ognuno di loro ha dovuto aprire il cassetto dei ricordi per far sfociare un qualcosa legato al ricordo della mamma. La figlia più piccola aveva solo 5 anni quando ha perso la mamma, per cui sapeva e ricordava davvero poco. Andando a fare le domande giuste a ciascun zio, sono riuscita a cavare qualche informazione in più. Gli aneddoti sono tutti riportati sul libro. Nel caso della zia Rita, che era la più piccolina, ruota tutto attorno ad un mazzolino di fiori, l'unico suo ricordo. Per i figli più grandi è stato forse più facile perché i ricordi c'erano, forse più difficile perché il dolore è ancora molto nonostante siano passati 55 anni. E certo, però hai scoperto tantissime cose, quindi immagino che sia stato anche un viaggio per te all'interno della tua famiglia, ma anche della tua vita, perché sicuramente sei riuscita a collegare un po' i puntini che ti portano a essere anche la persona che sei oggi. Io invece vorrei farti un'altra domanda. Questa storia può considerarsi intergenerazionale? Perché appunto Picnic è un programma che parla di generazioni, quindi mi piacerebbe parlare con te dell'intergenerazionalità di questo libro, perché possiamo vedere innanzitutto che tutti i tuoi zii hanno età molto diverse, perché passano addirittura vent'anni fra la zia più grande e la zia più piccola. E inoltre, come dicevi prima, ogni capitolo dedicato al passato è alternato da un capitolo che parla invece del tuo presente. Ci puoi dire in che senso è intergenerazionale? Sì, lo è perché va ad abbracciare i nonni che sono classe 1913 e classe 1919, invece la nonnarina parla dei dieci figli nati tra il 1941 e il 1961 e poi intervallando la vita mia, quella della nonna, c'è la mia generazione, quindi io sono del 1978 e parlo anche dei miei figli nati nel 2002 e 2004. Ci sono molti valori, molti aneddoti che riportano ai valori propri della famiglia, quindi credo che questo sia assolutamente intergenerazionale e so che ci sono stati anche dei bambini, dei ragazzi che hanno letto questo libro oltre a tanti nonni e ognuno di loro ha colto tra le righe qualcosa di diverso. Infatti volevo proprio chiederti, secondo te è importante che anche i più giovani leggano libri che parlano di memoria storica, quindi del passato? Cosa possono imparare magari dedicandosi a letture che non parlano del presente o che non sono fantasy ma che raccontano delle generazioni prima della loro? Credo che ci sia sempre da imparare in qualunque tipo di libro, per assurdo si impara anche con i fantasy. Questo libro è una raccolta di testimonianze storiche, porta indietro di decenni, anche di un secolo se vogliamo, chiunque legga. Ognuno può far tesoro di un racconto piuttosto che di un altro. I ragazzi soprattutto possono vedere e rapportare i valori che c'erano tipici di metà novecento rispetto a quelli che ci sono oggi e magari imparare quali sono le differenze e su queste poi costruire i loro valori. Grazie mille Caterina, è stato molto bello parlare con te sia del circolo ricreativo Airali sia del tuo libro. Abbiamo scoperto tantissime cose e speriamo di venirti a trovare presto al tuo circolo. Intanto io vi ricordo che potete trovare in tutte le librerie, direi, il libro Caterina, un nome, due storie che è stato scritto appunto nel 2023 da Caterina Canavosio. Ora noi ci ascoltiamo una canzone e poi il GR e successivamente torniamo qui su Picnic. Ciao Caterina. Ciao Giulia, grazie.